3 ce la portiamo, chi è? Scovillein Oh, una EX finalmente Mirai d'un EX Sorcoferrio Ed è? È la Terra Crystal Bellissimo Arkane EX Terra Stahl Ed è? Guardate qua Due gocce d'acqua Ed è? Questa è Toxicroak Ed è? La Terra Crystal Sì Il Geridos È l'unico Eccola Dolly V Bellissimo Dietro Cacnea c'è? Oh mio Dio Guarda e vuoi EX Mamma mia signori Che box che ci manda Game Over Treviglio